Amici miei, McLaren 720 EVO abbiamo capito che non è la mia auto, lasciamo perdere, rimaniamo con la Ferrari 296 e siamo a Watkins Glen. Ore 12 per questa gara in split 3 di 25 minuti. Andiamo direttamente in qualifica. Sono riuscito a fare giusto 4 giri offline prima di cominciare in modo da teoricamente regolarmi le pressioni. Dopo il piccolo tentativo in McLaren che avete visto, giusto per qualche curva, ma in realtà io una gara l'ho fatta a Suzuka. Intendo McLaren 720 EVO, quella nuova, poi ho deciso subito di ritornare sulla 296 che si guida molto meglio e anche il cronometro ringrazia. Nooo, è meno male che si guidava molto meglio. Attenzione a Te Shu che sembra che sia raffreddato e mi passa così un giro di lancio. Ricordiamoci che dietro c'è Nur che invece è lanciato. Che farei anche passare. Dobbiamo darci dentro e fare almeno due giri buoni. Siamo già inseguiti da Warner, di nome Fabros. È solo che adesso io non mi levo ragazzo, anche se c'è la Mercedes. E mo' ci diamo fastidio però, mo' ci diamo fastidio. Dai, devi mollare. Vedi? Vedi le stronzate che si fanno? Niente, giro annullato. Andata, andata, vai. Vaffanculo. Warner Bros, detto Ed Warner. Ci siamo trovati lì. Qua finisce che parto 26esimo. Non ci posso credere. Ma dai! Che pa... Cosa sto combinando? Apollo è 45,7. Chiudiamo il primo giro buono in 47,5 P16. Avevo un best con la McLaren di 46,8 su questa pista. Decisamente meglio in tutte le curve. E facciamo forse quel 46,8 come in McLaren. Ultimo tentativo, ci portiamo in P13. Non l'avrei mai detto. Anche perché sento che c'è ancora molto da dare. 3,4 decime. Ho chiuso in P16 con un 46,8. Per come ho girato, quindi abbastanza male e non molto concentrato, non sono così deluso. La pole è di Allen a 45,7. E l'ultimo tempo registrato è 48,2. Secondo me c'è possibilità di migliorare questa P16. Ma sarà veramente così? Ci vediamo in gara. Low Fuel Motorsport. Watkins Glen. Ferrari 296. Si parte. 30 secondi. Allora, le vie di fuga ci sono. All'esterno sono all'esterno. Cosa potrà andar male in questa gara? Vai Coco! Vai Coco Belo! Arriva la 1, arriva la 1. Frenano presto. Era un break check quello. Attenzione! Attenzione! Via via! Via uscita dal casini! Non facciamoci paninare! Non rientrare da infame, non rientrare da infame. Non chiuderla. Sfilato. Ok. Interessa, non ho fatto male i conti. Due posizioni ne abbiamo ghiottonate. No, no, no. Meno male che non ha rimbalzato come un flipper. E qui cosa facciamo? Mamma mia, che casino ragazzi. Ho frenato alla cieca. Mi son fidato di quelli che frenavano. Dietro non ghiottonate ragazzi. Eila, amici! No, niente. Volevo solo capire il motivo dell'auto ferma sul dritto. Abbiamo Tashu dietro e Warner davanti. Però è solo la Ferrari di Tashu che si gira. Erano molto vicini, ma la domanda è... Si sono toccati? Risposta... No, andiamo avanti. Strano che si siano schiantati lì, perché è tutto dritto. P12, fantastico. È andato un po' fortino. Vai! Che c'è Gabrielli davanti. Dietro Rex. T-Rex lo chiameremo. Mamma mia, le sto facendo paura Gabrielli. La frenata era un po' lunga, però anche era un po' su... Le modalità qualifica. Era comunque lunga. Si chiude così, quindi il primo giro. P12. Non posso lamentarmi. Forse è un po' troppo presto qua. Ho come il presentimento che adesso in G-Cann, là in alto, dopo questo dritto succederà qualcosa. Non so, me lo sento. Beh, almeno c'è un po' di distacco. Per capire. No. Ho fatto una gufata a vuoto. Adesso quando mi servirà veramente non funzionerà più. Attenzione qua, vedo un po' di cincischiamento. Non fate stronzate. C'è Ed Warner. O Warner Bros, detto anche. Cosa fai, Warner? Non la puoi più chiudere, ci sono io. Eh, la spallatina, la spallatina. Sono in mezzo a guai. No, è Warner. Ed Warner mi ha colpito. Tutto a posto. Ci siamo chiariti. Warner, ti entri l'interno, che ti conviene. Te l'ho detto che ti conveniva. C'è dietro Gabrielli che si è un po' risentito per il contatto di prima. Eh, è largo, largo, largo. Non è warning. Ho qua ancora largo. Via, con un altro giro. Sto sentendo la gara, mi piace. Mi piace quando è così. Più o meno lo stesso gap del giro precedente, ma di due posizioni più avanti. Yellow flag, c'è già paura. Eccolo lì. No! Mi sono girato come un coglione. Questa è l'auto shagura. Questa è l'auto... È l'auto shagura. Auto malocchio. Rientriamo in pistata, stronzi. Che mi sono tirato da solo prima. No, quanta gente che deve rientrare. Troppa gente. Ehm, un errore da niente questo. Che può capitare, però non ci voleva. Ve lo faccio rivedere. Vabbè, me la sono tirata da solo, dai. Però mi girano i coglioni. Ma niente. Puntiamo a ricucire. Qua ce ne sono quattro davanti, che mi sembrano un po' lenti. E anche disorientati. Distratti. Gli ha iscritti la mamma le gare. Non sa bene perché sono qui. Ehm a Karenko. Si fa largo. Poi c'è Starnuto davanti. Te shoo! Ho preso le distanze perché infilarsi adesso sarebbe stato azzardato. Non sapevo bene come si sarebbe comportato a Starnuto. Figa, Westerven si è ammazzato qua. Siamo in scia. C'è Muti che mi dice qualcosa in altre gare. Già successo. Aiuto. Non vedo niente. C'è una macchina schiantata contro il guardrail. Due. Oh, Muti. Muti non mi sembra tanto veloce. Saltella pure nel prato. Però qui la fa bene. Dai, Muti. Che Muti sono questi? Fammi passare. Dai, sei mio. Sei mio. No, la fa... Non molla. Non molla però può... Non stringere così. Dammi un po' di spazio che sono quasi dentro. Adesso cosa facciamo? Ci facciamo male? No, Muti. Madonna, Muti. Sei un folle. Caro Muti, o sei un geometra mancato o sei un pazzo incosciente. Sei un folle a buttarti così. Abbiamo rischiato di fare una fine orrenda. E adesso lasciamo... Cosa fai? Mi tiro la spallata, brutta idiota. Adesso ho fatto il lungo. Mamma mia, Muti. Mi stai gustando. Intanto qualcuno ci ha lasciato le penne. Muti. È il re del millimetro, lo chiamano. E adesso? Cosa fai? Mi porti fuori? E l'incrocio? No. Qualcuno ogni tanto si trova parcheggiato, quindi sono posizioni guadagnate così gratuitamente. Bravo, bravo. Saltella un po'. Mi faccio la finta, rientro. È inutile qua affondare. Perché poi si avrebbe la curva a favore. Oh, Muti, Muti, Muti. Muti, 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 Muti. Dai, Muti, non mi intortare. Comunque abbiamo fatto due sfiorate. Ma il folle più di tutti è lui. E qua? E qua siamo affiancati, ragazzi. Quasi affiancati. Adesso mi sa che mi devi lasciare andare. Bravo. Ce l'ho no, sta posizione. Sei ancora affiancato, mi dice Rada. Ora no. Ora non più. Ed è arrivato dietro anche Ruff. E ti ha abbattato subito una posizione. Lui sì che ti ha ruffato tutto. Bravo Muti, comunque. Sì, niente. Qui volevo solo dire una cosa a Teshu. Eh, attenzione. Di nuovo un'ennesima ghiottonata. Questo sarà un video pieno di moviola. Wow, è Teshu. Siamo nel 47 altissimo. Ancora lontani dal best lap. Però davanti 52 Turner. Eh, ma è molto lento Turner. Tina Turner. Vai, Tina. Che sono arrivato. No, Tina. No, Tina. Sei troppo lento. Merda, l'ho troppo attaccato. Ho dovuto lasciare. Eh, qua va proprio detto passa perché sono quasi indoppiato. Lentissimo. Boh, secondo me aveva qualche danno. Era troppo lento. Yellow flag. Qua non ho fiducia comunque. C'è un'autorosa. C'è un'autorosa. È Silva. Quello del primo giro. Davanti. 48,1. De poi lì. 56. Silva. Ha fatto una stronzata. Però mi sembra che comunque sia lento in generale. Non si sia ripreso dalla stronzata. Andiamo avanti ragazzi. Abbiamo 10 minuti di paura ancora. Siamo in P12. Secondo me possiamo arrivare nella top 10. Poi dopo la top 10 il nono è lontano. È storiale. 10 secondi al momento. Vai che questa è la mia curva. Eh, ma però... Ma però non si dice. Non in questo modo si fa. Però è molto presto lui. Eh, larghi tutti e due. Qua è da warning ragazzi. No. Oh, attenzione. Attenzione. Non facciamo cagate. Mi ha trainato nell'oblio. Eh, due decimi meglio. Oh, eccolo. Così doveva essere di prima. Mamma mia, se forza però. Non vuol farsi passare. Non vuol farsi passare. Qua non so se attaccarlo. Non mi ricordo come la fa lui. No. No, no. Non c'era lo spazio. Dai ragazzo. Bravo. Ma hai fatto... Ma hai fatto la mossa dello stronzo. Quella che ti fa rallentare. Ci sta, eh. È giusto. Anch'io lo faccio ogni tanto. Eh, non penso che si chiami ufficialmente mossa dello stronzo. Ancora largo. Lui stavolta. Io no. Ora sono in traiettoria. Ora sono buono. Mezzo secondo è meglio fatto. Lui lo sa che sto arrivando. Mamma mia, il traction. Cosa ho rischiato di morire? 6 minuti e 20. Non potei guidare la GTR che facevi la Nissan Silva. Invece de poi lì sembra cedere. Attenzione. Infatti prima aveva girato un 48. Anche davanti in nonna c'è Coco con 51,7. Forse sta cambiando le gomme. Stanno perdendo tutti un po' di grip. Io conosco quelle due o tre curve dove devo stare attento alla trazione. Però per il resto è guidabile. Dammi la scia. Dammi la scia. Dammi la scia. Eh no, ti voglio far fare il lungo perché sono stronzo. Mamma mia, il posteriore cosa se ne va? Qua gli diamo solo fastidio. Lo sa che sto arrivando. Mi vede. Che fatica passarlo. Qua deve sbagliare. Se non sbaglia non so come passarlo. Oh, l'ha presa, l'ha presa la sponda. Non gli cambia quasi niente. Ma secondo me è scioccato quindi devo affacciarmi ora. Teniamolo largo. Teniamolo largo il più possibile. Qualcuno è fermo. Eh, è uscito meglio lui. Sfruttando la pista fuori. Però adesso c'è l'interno. Dai, levati dalle palle. Fammi fare sta curva che ci facciamo male. Ma va farina. F***. che testa di cavolo che botta ragazzi ora c'è da lavorare un po di moviola poi alla fine vi dico la mia questo è il punto di vista di silva siamo affiancati inizio salita alla seconda curva sinistra io sono davanti poi recupero un po e si affianca giusto di pochi centimetri colpendomi facendomi girare ora la rivediamo dalla mia visuale esterna guardate in che razza di punto pretendeva spazio vi dico già che poi lui alla fine pretenderà di aver ragione perché dice di essere rimasto attaccato al cordolo e dice che io l'ho chiuso caro silva io non è che t'ho chiuso tu non potevi considerarti ancora affiancato e io stavo solo facendo la mia traiettoria tra l'altro in quel punto lì è così veloce che se allarghi un pelo vai a sbattere sicuro contro il muro esterno però siccome mi piace sentire il parere di tutti ragazzi siate spietati e ditemi la vostra la cosa invece di cui mi scuso profondamente è questo testa coda che ho fatto in mezzo alla pista per cercare di ripartire velocemente no non si fa qui tessius è visto la morte in faccia ma per fortuna è sopravvissuto è stata una gara strana son partito bene ho guadagnato tante posizioni poi ho fatto un errore e ho fatto dopo una grande rimonta molto interessante con sfide molto accese vince il tedesco volert con 45 e 3 di best lap bravo ben allen secondo e schuller altro tedesco terzo italiani abbiamo sturiale settimo gurino quindicesimo conversano sedicesimo e poi max mappo e gabrielli ventitresimi ventiquattresimi non lo so se sarei riuscito a star dentro alla tanta ambita top 10 però secondo me qualche possibilità ce l'avevo mi spiace aver chiuso una gara così non farà una segnalazione perché comunque io ho un minimo di colpa nell'essermi mosso dopo l'incidente quindi vabbè lasciamo stare di sicuro non avrei mai forzato un sorpasso del genere come ha tentato di fare silvo o perlomeno anche a non cercare di starmi attaccato in quel punto molto veloce molto difficile da controllare due auto affiancate questo è solle gare bisogna accettarlo e ci vediamo alla prossima saluti da mappo ciao mi ha scritto un messaggio vediamo amico ero rincollato al cordolo hai girato nella mia corsia ma che cazzo stai dicendo che eri dietro non eri quasi neanche affiancato va bene buono ma pirla no quindi hai sbagliato zitto a casa ci vediamo alla prossima